Si è svolto ieri pomeriggio davanti alla sede dell'amministrazione del decimo municipio il sit-in di solidarietà per il giornalista di report Federico Ruffo, a cui hanno tentato di incendiare la casa d'ostia antica. Ruffo è arrivato in piazza della stazione vecchia con l'espressione ancora palesemente segnata da questa esperienza e ha raccolto la solidarietà di diversi colleghi e cittadini che si sono radunati intorno alle 15.30 davanti al palazzo dell'ex governatorato. Presenti anche i vertici della Federazione Nazionale della Stampa che hanno dichiarato Siamo in piazza per dare solidarietà a tutti i giornalisti e le giornaliste che con il loro lavoro continuano ad illuminare le periferie dove si annida il malaffare. Ha partecipato all'iniziativa anche l'associazione antimafia Noi, nata per Federica Angeli, un'altra giornalista impegnata nelle battaglie contro i clan della capitale.